il cane di famiglia o il cane in famiglia comunque che vive e scelto dalle persone può migliorare se stesso se stessa il cane non decide nulla della propria vita sono le persone che decidono dove farlo stare se portarlo fuori o non portarlo fuori se farlo stare in casa se stare in giardino il cibo da scegliere se liberarlo con i cani se non lasciarlo libero e quindi il cane non può migliorare se stesso se stessa se le persone non migliorano se stessi e se stessa nulla cambia se nessuno cambia soprattutto le persone chi vuole migliorare e migliora se stesso migliora anche il cane ciao da stefano pesci istruttore eduatore cinofilo comportamentale specializzazione norvegese nella risoluzione problemi del comportamento del cane nel benessere del cane ideatore del metodo togher dog le scero cane insegnante se ti fa piacere mi puoi contattare o scrivere dal mio sito internet www istruttore cinofilo punti t nulla cambia se nessuno cambia